E che faccia che ho fatto nello specchio di quest'altro te Perciò, caro Gesù, ti prego, se lo vuoi Come vorrei un'altra vita, quella che io da bambino chiedevo come E.T.M. mi rupi non hai hone katt ga dinta şehir mai bhi dikhai d'ya Chiahang congress ke agrimi sanagna tra shineo ne E.T.M. machine ko maala panna kar Condolei arpid ki aur is nakaami ke liye kendr serkari ko zimaida da a Interior Youth congress d'NSUI ke karikattahau ne Chaniwar ko hazaari baag istit SBI ATM ko maala Paglia 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, 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 non c'è nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.